Napoli, novità sugli infortunati, le su Mario Rui e Lozzano. Saranno due calciatori del Napoli che sicuramente non prenderanno parte alla trasferta contro il Monza, Mario Rui e Lozzano. Entrambi sono infortunati, anche se i tempi di recupero sono differenti. Il terzino portoghese è vicino al ritorno in campo. Ce la farà entro la fine del campionato, mentre è più grave l'infortunio rimediato dal messicano contro la Fiorentina. Lozzano, infatti, ha riportato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Napoli, gli aggiornamenti su Mario Rui e Politano da Castelvolturno, dove il Napoli si è allenato questa mattina. Arrivano novità sui due calciatori di spalletti. Mario Rui ha fatto palestra e terapie. Lozzano ha effettuato terapie iniziando l'iteriabilitativo.